Allora, l'ospite che stiamo per presentare non ha bisogno di spiegazioni Lui a parte è un bravo artista, ora è anche un bravo attore Signori e signori, Franco Manna Acquaglia un bel applauso, vieni Franco Buonasera, buonasera Ciao Franco, ti va bene, un po' a caldo, tu come stai? Hai portato un po' di fresco qua? Sì, sì, no, no, vengo direttamente da Roma e è peggio di qua Ahia! Si muore Si muore pure là? Sì, sì, sì Bene, allora va caldo pure a Roma Allora, non ci possiamo muovere, dove andiamo andiamo Che mi dici di bene? Allora, tu cosa ci dici di bene? Io stiamo lavorando, stiamo lavorando, ringraziato il Dio Siamo a parte dei nostri cortometraggi, il nostro film Con Mary Fabrocino, l'ultimo posteggiatore Stiamo facendo un altro bel cortometraggio con il regista Davide Guida E poi a Roma stiamo preparando le scene per il mio videoclip nuovo Benissimo, a noi ci fa tanto piacere E anche lei mi ha piaciuto la canzone Tu meriti Sì, sì, sì È un bravissimo artista Non lo so, io... No, no, meriti, meriti, non ti preoccuparti Ma infatti io per questo ho detto Non ha bisogno di essere spiegato Ma assolutamente, ti ringrazio Stasera che ci fai ascoltare? La signorana appena che mi ha visto Sì? Sarate con Cosi Son No, noi volevo aprire la propria La prossima è La mia donna Bella, due belle canzone Due bellissime canzone Vai Franco Grazie Franco Manna Grazie Grazie a tutti 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 Allora lasciamo il nostro amico Franco Grazie a tutti Grazie a tutti